Variabili negative Di una silla guardare per un po' Cos'è la chimera che muore Tu, quanto vorrai Le nuove ansie Se permi salire E tu, non mi immaginarai Come sarà Di un finale che mi fa male Tenerma in realtà Durante la nuove usine In realtà Si gi Non mi immaginarai Si gi Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.